Cos'è il dolore neuropatico? Quali sono le differenze rispetto al dolore cosiddetto nocicettivo? Lo abbiamo chiesto a un vero esperto, al professor Diego Fornasari, che abbiamo incontrato qui a Milano in occasione della seconda edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana Guida. Professor Fornasari, innanzitutto che cos'è il dolore neuropatico? Ecco, ci dà una definizione e ci aiuta a capirlo. Direi che la definizione migliore che è stata data di dolore neuropatico è quella che è stata data nel 2008 da Treede e dai suoi collaboratori durante appunto questa consensus conference che ha definito un dolore neuropatico come un dolore derivante da un danno o da una lesione a carico del sistema somatosensoriale. Quindi questo ha in qualche maniera tagliato la testa al toro, non ci può essere confusione, ci deve essere un danno o una lesione del sistema somatosensoriale che può interessare naturalmente il neurone periferico, il midollo spinale, strutture sopraspinali. Ci sono diversi tipi di dolore neuropatico con differenze anche l'uno rispetto all'altro e che naturalmente da un punto di vista patogenetico prevedono comunque meccanismi che sono comuni. Fondamentalmente la grande differenza tra il dolore neuropatico e il dolore nocicettivo è che il dolore neuropatico, il punto di partenza degli stimoli dolorosi, non è più il tessuto infiammato perché la fibra è stata, semplifico ma per chiarire, interrotta, è stata lesionata. Quindi il dolore parte dal punto di lesione della fibra che in quel punto si è anche modificata, si è creata una struttura diciamo ectopica, mentre il dolore nocicettivo è normotopico, questo è ectopica come sede di partenza del dolore con modificazioni dell'espressione di proteine e una zona appunto del nervo che o in maniera spontanea, pensiamo per esempio alla neuralgia posterpetica o in maniera evocata, pensiamo al neuroma di Morton o a certe compressioni radicolari, evoca appunto dolore partendo da questo focolai ectopico. Modificazioni che si realizzano quindi in periferia ma che si realizzano anche dall'altra parte del neurone dorsale, del ganglio dorsale se pensiamo ad una per esempio compressione periferica che è la cosa più frequente perché anche dall'altra parte abbiamo modifiche delle caratteristiche della fibra, aumentata espressione di canale al calcio, ingresso di calcio, liberazione di grandi quantità di neurotrasmettitore e quindi anche diventa ragionevole utilizzare in queste condizioni dei farmaci che blocchino proprio questi canali al calcio che è quello che normalmente si fa. Quindi il dolore neuropatico è una cosa molto diversa dal dolore nocicettivo perché mentre nel dolore nocicettivo il sistema nocicettivo, nel dolore nocicettivo infiammatorio per esempio, il sistema nocicettivo funziona perfettamente e sta controllando la situazione in periferia, nel dolore neuropatico è il sistema nocicettivo che è ammalato ed è lui che non funziona più correttamente. E quali sono le cause di queste anomalie del nostro sistema nocicettivo? Ci sono molteplici appunto, bisognerebbe ripercorrere sia se si è del neurone di primore, di secondore, di terzo ordine. L'ictus per esempio è una causa di intensissimo dolore legato appunto a lesioni alte della via nocicettiva. Diciamo che il diabete è un'altra causa di danneggiamento delle fibre. Le cause possono essere molteplici, spesso nell'ambito delle malattie osteoarticolari il dolore deriva proprio da fenomeni compressivi o infiammatori a carico della fibra nervosa e quindi diciamo una lesione proprio della fibra periferica. Sono diciamo le forme che il medico di famiglia insieme alla neuropatia diabetica dolorosa e insieme all'herpes vede più frequentemente. Le altre sono più di natura specialistica. Professore, passiamo alla terapia. Anche se appunto ci ha già fatto capire che le forme di dolore neuropatico sono tante, quindi anche la terapia immagino sarà abbastanza complessa, però per schematizzare quali sono le armi a disposizione del medico? Allora, chiaramente nel dolore neuropatico abbiamo un focolaio ectopico, come abbiamo detto, che scarica ad altissima frequenza e riesce a raggiungere le corna posteriori del midollo spinale perché ovviamente sfrutta la propagazione e potenzializzazione attraverso canali al sodio voltaggio dipendenti. Quindi è evidente che se io inizio a bloccare questi canali al sodio voltaggio dipendenti, per esempio con un anestetico locale come la lidocaina, anche somministrato ovviamente topicamente o per via orale, non importa, chiaramente inizia ad ottenere degli effetti sulla propagazione degli impulsi. Poi l'altro problema è un problema collegato alla liberazione di grandi quantità di neurotrasmettitore correlato, come si diceva precedentemente, all'abnorma espressione di questi canali al calcio, che posso in qualche maniera controllare attraverso gabapentinoidi, pre-gabaline e gabapenti, che hanno proprio questa attività sulla sinapsi, ma sulla parte diciamo ancora del neurone periferico lesionato, di controllare appunto l'ingresso di calcio. Quindi questi sono tipicamente farmaci del dolore neuropatico. E poi, stando appunto anche nelle più recenti meta-analisi, sicuramente al primo posto per quanto riguarda il trattamento del dolore neuropatico ci sono i farmaci che interferiscono con l'attività delle vie inibitorie discendenti. Quindi quei farmaci che fanno aumentare la quantità di noradrenalina e serotonina nelle corna posteriori del midollo spinale e limitano la trasmissione degli impulsi nervosi. Al primo posto troviamo proprio gli antidepressivi triciclici, che sono farmaci carichi eventualmente di effetti avversi, ma i più efficaci nel trattamento del dolore neuropatico, e gli SNRI, cioè gli inibitori selettivi della serotonina e della noradrenalina, tipo la duloxetina, che hanno appunto una funzione simile. Questi sono fondamentalmente i capi saldo della terapia del dolore neuropatico. Poi naturalmente in terza linea, oramai qualcuno, io non sono completamente d'accordo su questo, ma in terza linea sono stati messi gli oppiacei per gli effetti appunto per il rischio di dipendenza e tra gli oppiacei spicca il ruolo appunto del tramadolo che sembra essere efficace appunto nel trattamento del dolore neuropatico, quindi un cosiddetto oppiaceo debole. Per quanto riguarda l'altro oppiaceo con duplice meccanismo d'azione, cioè il tapentadolo, al momento non esistono sufficienti studi per dire dove si posizioni nel dolore neuropatico, perché è un farmaco giovane, anche se promettente, però chiaramente non ci sono abbastanza studi su questo. Il gabapentin, che è anche molto utilizzato nel dolore neuropatico, dove si colloca nel suo schema? È sicuramente un farmaco di prima linea, che insieme, diciamo, io li considero insieme, gabapentin e pregabalin, come farmaci appunto di prima linea, insieme agli antidepressivi triciclici e eventualmente appunto ai bloccanti dei canali. Ecco, ci sono poi delle soluzioni nel dolore neuropatico che vengono considerate come appunto la capsaicina, che ha una sua applicazione, la lidocaina topica, che ha una sua applicazione anche lei, in certe tipologie di dolore neuropatico. Però, appunto, questi sono farmaci di prima linea, sicuramente. Grazie a tutti.